Non ruberò molto tempo, Presidente, naturalmente questa mozione ricalca alcune altre già discusse ieri dalla Presidente Zotta e le motivazioni della bocciatura di questa mozione sono molto evidenti, nel senso che il Comune di Roma non può andare in default e questo è valido per molte delle mozioni bocciate da questa maggioranza. È facile in opposizione chiedere la Luna, non è possibile realizzare, non chiedere il pagamento dei tributi e continuare a pagare i servizi ad esempio lì di convenzione, non si può fare, andiamo in default e non riesciamo a fornire altri servizi ai cittadini, il gioco dell'opposizione in questo caso è proprio questo, chiedere, chiedere, chiedere la Luna ma non si può fare perché poi togliamo servizi ai cittadini, noi responsabilmente abbiamo ascoltato, nessuna delle proposte dell'opposizione era ragionevole oppure erano proposte di già superate e in avvio e queste sono le motivazioni dell'astensione o della bocciatura di tutte le mozioni che abbiamo fatto oggi. Grazie.